Ciao André, sono il tuo batterista preferito. A proposito, devo parlare proprio del nostro gruppo, i Boom Crash. Tu dici sempre che bisogna d'accidento con la voce, che non bisogna cantare ma urlare. Ho messo questo a romper disc. Ho capito cosa vuol dire un cantante metterci l'anima. Poi posso fare la pausa dopo questa scena. Senti, Arita Franklin, Billie Holiday, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald. Conosci Mervyn Gay, Lionel Richie, Otis Redding? Chi è Otis Redding? Questi non entrano solo nelle orecchie, ma partono da qua. Tutti da qua dentro. Io lo so cosa pensi tu. Funziona? Che roba da vecchi, ma direttamente. Questa è musica senza età. Quando ci vediamo alle prove, ti porto questo compadisc. Anzi... Sì, è meglio andare. Il disco del mese di Repubblica. Ogni mese un disco e un libro per sempre. Dal 6 aprile, in edicola, le grandi voci della musica nera.